Da un lato la riqualificazione di uno spazio importante del centro storico che la città attende da anni grazie a un corposo investimento pubblico, dall'altro l'incognita sulla nuova sede della Questura di Pesaro. Il sindaco Matteo Ricci ripercorre la vicenda legata alla collocazione della Questura, proponendo dopo il cambio di rotta del Demanio due soluzioni per la realizzazione della nuova sede. Si tratta di terreni che l'Agenzia del Demanio potrebbe acquisire tramite il diritto di superficie dal comune di Pesaro, due aree pubbliche che, come ha spiegato il primo cittadino, non necessitano di varianti urbanistiche. Le aree individuate dunque dall'amministrazione sono una in zona Celletta, in strada Pantano-Castagni, e l'altra in zona Torraccia, in via Gran Torino. Di un bene dello Stato si dovrebbe occupare lo Stato, nei suoi vari ministeri, con l'Agenzia del Demanio. Nonostante questo, in questi mesi, in questi anni, ho cercato di aiutare a trovare una soluzione e siamo riusciti ad ottenere un finanziamento rafforzato, fino a 6 milioni e 2, per sistemare l'ex intendenza di finanza. C'è stata molta lentezza da parte dell'Agenzia del Demanio regionale nel portare avanti il progetto, complicazioni nate nel percorso autorizzativo, anche con l'intervento della sovrintendenza, però eravamo arrivati alla fine, finché l'Agenzia del Demanio, che nel frattempo ha cambiato i vertici nazionali, ha cambiato strategia e ritiene molto più funzionale fare all'ex intendenza di finanza gli uffici come era previsto precedentemente. Quindi la buona notizia è che l'ex intendenza di finanza verrà riqualificata, forse anche più velocemente, del previsto per farci uffici pubblici, un bene chiuso da decine di anni. La notizia negativa è che non c'è luogo per fare la sede della questura. A quel punto io potevo disinteressarmi, ma credo che ognuno deve dare la propria mano, e ho chiesto all'Agenzia del Demanio se potevo dare una mano a un piano B. L'Agenzia del Demanio ha approvato di nuovo sui locali della caserma, ma il Ministero della Difesa ha chiuso ancora una volta le porte, e l'unica possibilità che loro vedono è quella di terreni comunali sui quali cedere il diritto di superficie, urbanisticamente già a posto. Cioè dove terreni, dove nel piano regolatore siano previste strutture a servizio pubblico per almeno 5.500 metri quadri. Fatta questa ricerca, che ovviamente ha stretto al minimo tutte le possibilità, sono emersi due terreni del Comune, uno vicino al Palasport e l'altro vicino al nuovo casello di Santa Veneranda, per la realizzazione della nuova questura. Se decideranno che uno di quei due terreni può andare bene, noi andremo in Consiglio Comunale e discuteremo in Consiglio Comunale sul diritto di superficie.